Dopo Napoli velata, il grande Ferzan Ospetek torna nelle sale cinematografiche con il suo nuovo film dal titolo La Dea Fortuna nel dicembre del 2019. Io ero molto curioso di vedere questo film anche perché Ospetek intanto mi piace come regista. Poi, sin dalla prima volta che vedi il trailer, ero molto curioso anche perché il cast che avrei trovato nel film mi piaceva particolarmente. Ospetek è un grande nel raccontare storie d'amore, dinamiche familiari. Ospetek parla sempre anche del dolore, degli alti e bassi di una relazione, la tematica omosessuale molto importante nei film di Ferzan Ospetek, come è molto importante anche la perdita, la malattia. Insomma, sono temi che ricorrono spesso nella filmografia di Ferzan Ospetek. Con questo film, con La Dea Fortuna, ci si avvicina un po' a Saturno Contro. Mi è venuto in mente, guardando questo film, Saturno Contro in particolar modo. Ed è un film che mi è piaciuto molto. È un film per me recitato benissimo. Ci sono due grandissimi attori, cioè Stefano Accorsi ed Edoardo Leo, che per me davvero interpretano questi due personaggi nel migliore dei modi. Edoardo Leo interpreta Alessandro, mentre Stefano Accorsi interpreta Arturo. E praticamente il film vuol proprio parlare di questi due protagonisti, Arturo e Alessandro, che sono una coppia omosessuale, stanno insieme ormai da una quindicina di anni e come in tutte le coppie, omosessuali o non omosessuali, diciamo che stanno arrivando i primi segnali un po' di crisi. Non c'è più quel sentimento di una volta, non c'è più quella passione, non c'è più nemmeno il sesso di una volta. Quindi diciamo, seppur i due continuino a vivere insieme, seppur i due quasi facciano finta di niente in certe occasioni, si percepisce sin dall'inizio del film che tra i due le cose non vanno più molto bene. Fino a che forse la loro vita un giorno cambierà quando entrerà in scena un nuovo personaggio, Jasmine Trinca, che per la prima volta lavora con Ospetek, proprio come Edoardo Leo per la prima volta lavora con Ospetek, che arriverà a Roma e lascerà i suoi due figli, e cioè Martina e Alessandro, ad Alessandro e Arturo, perché lei dovrà farsi visitare lì a Roma, ha delle visite di controllo per delle continue micranie che ha già da un po' di tempo e quindi chiede il favore ai suoi due amici, tra cui Alessandro è proprio il miglior amico, di tenere i bambini fino a che lei non ha fatto queste visite. Quindi diciamo che forse questi due bambini, interpretati veramente benissimo da Sara Ciocca e da Edoardo Brandi, porteranno nuova linfa nelle vite di Alessandro e di Arturo. Questo non vuol dire che da un momento all'altro cessino i litigi o cessino le discussioni, assolutamente no. Ma forse i bambini, grazie anche allo sviluppo della storia, non vi dico cosa accade, permetteranno ai due sposi, permetteranno ai due protagonisti di ritrovarsi. Grazie anche alla Dea Fortuna, la Dea Fortuna che dà il titolo al film ma che ovviamente molto di più. La Dea Fortuna è un segreto, questo lo sentiamo dire anche nel trailer del film, no? La Dea Fortuna è un segreto, come si fa a non scordarsi mai di una persona, a far sì che una persona sia sempre con te? Bisogna guardarla fissa e praticamente guardandola fissa rubi l'immagine di quella persona, poi chiudi gli occhi e l'immagine di quella persona scenderà dentro di te e si fermerà nel cuore. È una cosa bellissima questa, la Dea Fortuna oltre a far riferimento anche a un santuario, insomma che vediamo tra l'altro nel film. Quindi il film praticamente vuol raccontare una storia d'amore, il film vuol raccontare una storia d'amore problematica. Ripeto, quando si va a vedere un film di Ferzan Ospetek bisogna un po' aspettarci quel che andremo a vedere. Sono fondamentali certi ingredienti nei film di Ferzan Ospetek, solitamente troviamo sempre delle persone omosessuali, solitamente troviamo sempre delle dinamiche familiari che ci vengono raccontate in certi film di più, in certi film di meno. Ripeto, in questo film io ho rivisto molto Saturno Contro, vi ricordate anche lì, storia omosessuale, c'era un grande Pierfrancesco Favino, c'era Luca Argentero, c'era... mi sfuggono i nomi... appena mi viene ve lo dico ogni tanto... Filippo Timi, scusate, vi ricorderete anche lì, storia d'amore, Luca Argentero e Pierfrancesco Favino che stavano insieme, poi all'improvviso una terribile disgrazia rovina tutti i piani e insomma cambia la vita a tutti i personaggi. Forse il tema della malattia, come ho già detto, ritorna anche qua. Non vi dico ovviamente come si svilupperà la storia di Jasmine Trinca, la storia di Anna Maria che dovrà farsi queste visite di controllo, vi posso solo dire che ovviamente è un film che sa emozionare, che sa commuovere, ma soprattutto è un film che dimostra nuovamente quanto Ferzan Ospetek sia bravo nel fare questi tipi di film. E infatti seppur il film mi sia piaciuto molto, guardandolo io dicevo speriamo che Ferzan Ospetek, un po' come ha fatto anche con Napoli Velata, in futuro possa anche cercare di fare qualcosa di nuovo, perché ho capito che in questo tipo di film lui è bravissimo, però mi piacerebbe a volte poterlo vedere, sperimentare. L'ha già fatto un po' con Napoli Velata, ultimo film che aveva anche un che di inquietante, che aveva anche un che proprio di argentiano, vi ricordate? Napoli Velata. Era un film su cui bisognava riflettere, sul folklore, sulla tradizione, insomma su quella Napoli quasi da film horror. Era un film che mi aveva colpito particolarmente e questo La Dea Fortuna è un altro film che mi ha colpito particolarmente, cioè un film che rivedrei e rivedrei, cioè un film che mi è piaciuto molto, è davvero un film molto bello, però allo stesso tempo mi piacerebbe che Ospetek potesse anche uscire qualche volta da terreni già esplorati. Poi per l'amor di Dio, continuasse a fare film così, sarò il primo a sostenerli. E anche in questo film non mancano anche i giochi di macchina da presa, che vediamo sempre nei film di Ferzan Ospetek, questa cinepresa volteggia, no? Con questi carrellini in tondo, magari ai tavoli, quanto sono importanti i tavoli, no? Ricolmi di cibo nei film di Ospetek, la famiglia riunita, ma famiglia non inteso proprio come parentela, la famiglia intendo un po' una famiglia allargata, no? Una famiglia composta anche da amici. Nei film di Ospetek è sempre importante, sono sempre insomma mostrate le scene della famiglia unita magari ad un tavolo, proprio l'unione che fa la forza con questa cinepresa che volteggia con questi carrellini intorno ad un tavolo. Vi ricordate l'inquadratura finale del tavolo da ping pong bellissima di Saturno Contro? Ecco, tornano quei movimenti di macchina di Ferzan Ospetek, sono importanti le musiche nel film di Ferzan Ospetek, nei film di Ferzan Ospetek. Qua torna addirittura Mina con Luna Diamante, una canzone scritta da Fossati e cantata da Mina, proprio nell'album che è uscito nel 2018, se non erro, l'avevo letto su internet perché era una canzone che non avevo mai sentito, le musiche sono importanti come ad esempio un'altra canzone meravigliosa è quella che viene ballata da tutto il gruppo sulla terrazza di questo appartamento romano, di questo palazzo romano dove proprio vivono più persone che sentite anche nel trailer. Quella canzone lì è veramente splendida, ora non so chi la canti e non so come si chiami la canzone, però è proprio la canzone che fa da sfondo al trailer, quando tutti sulla terrazza con la pioggia cominciano a ballare, quella canzone è veramente splendida secondo me e sono importanti questi momenti nel cinema di Ospetek. Ospetek insieme a Muccino è un regista insieme a Muccino che ama mostrare dinamiche familiari dove Muccino magari esaspera ed enfatizza certi momenti attraverso le dinamiche familiari che mostra, immaginiamoci i film di Muccino e ricordiamoci magari le scene di litigio e ricordiamoci magari le scene insomma che lui esaspera quando vuol far vedere magari discussioni, quando vuol far vedere storie d'amore, vuol mostrare un certo tipo di storia d'amore, tradimenti e così via. Ecco secondo me Ferzan Ospetek fa un tipo di cinema simile a quello di Muccino, magari Muccino mostra meno magari l'omosessualità a differenza di Ospetek. Ospetek mi ricorda un po' l'Almodovar italiano seppur sappiamo tutti che Ospetek è turco in realtà, però il cinema di Ospetek a me ricorda molto sotto certi aspetti il cinema del maestro Almodovar. Muccino secondo me rientra nella solita schiera, comunque io adoro Muccino come regista e anche già vedendo il film, il trailer del suo nuovo film, Gli Anni più Belli, notiamo che anche lì racconterà dinamiche familiari, anche lì si tenderà ad emozionare il pubblico, a farlo commuovere. Secondo me insomma Ospetek e Muccino sono due registi che in Italia regalano un certo tipo di cinema simile sì perché entrambi raccontano dinamiche familiari, entrambi raccontano il dolore, raccontano l'amore, ma lo fanno in maniera simile ma diversa, scusatemi il gioco di parole, perché seppur entrambi facciano la stessa cosa, entrambi hanno i propri modi di fare, i propri modi di fare cinema, però ovviamente quando si guarda un film di Ospetek è inevitabile che magari si possa pensare anche al cinema di Muccino e quando si guarda il cinema di Muccino è inevitabile che si possa dire caspita, questa cosa la vediamo anche nel cinema di Ospetek, ad esempio in questo film c'è il personaggio interpretato da Filippo Nigro che soffre di Alzheimer e che ogni giorno si dimentica le cose accadute e questa cosa mi ha ricordato tantissimo il personaggio di Massimo Ghini in A casa tutti bene, c'è anche una scena in cui veramente si ride di gusto per colpa dell'ennesima dimenticanza di Filippo Nigro che proprio ricalca quella di A casa tutti bene con Massimo Ghini, che sia un caso, che sia un omaggio, non lo so, vi posso solo dire che per me Muccino e Ospetek sono due registi molto simili, seppur magari uno abbia il proprio modo di raccontare il cinema e abbia i propri ingredienti da mostrare e l'altro idem. Detto questo, Ferzan Ospetek chiama con sé nel cast nuovamente anche Serra Ilmaz che è un'attrice che vediamo sempre nei suoi film e che posso dire, il film a me è piaciuto molto, il film è un film drammatico ma che sa fare anche divertire, è un film che vuol raccontare un amore tormentato e che vuol raccontare forse anche come potrebbe finire un amore se non ci fosse un qualcosa che lo può risollevare. Forse questo qualcosa sono i due bambini che arrivano, bambini cresciuti senza un padre, chi sarà il padre di questi bambini, bambini che faranno insomma comunella con i nostri Arturo e Alessandro, forse anche i due si interrogeranno sul passato di Anna Maria per cercare di capire se magari potesse esserci un legame più stretto fra grandi e piccoli, però allo stesso tempo io non vi rivelo niente, vi posso solo dire che seppur magari conoscendo un po' Ospetek ci si possa aspettare come vada a finire il film, perché se già avete visto Saturno Contro e vedete certe dinamiche che vi vengono presentate in questo film potreste dire ok potrei aver capito cosa accade, infatti io l'ho pensata questa cosa ed è accaduta proprio quella determinata cosa, ma la bellezza di questo film non sta nel magari trovare prevedibile un certo aspetto della trama, sta nella messa in scena perché Ospetek è un artista che racconta, è un rivista che racconta, conta come la mette in scena una storia, no? Non è importante sapere che potrebbe accadere una determinata cosa, non è che si sta guardando un giallo e te all'inizio scopri già chi è l'assassino perché il film è scritto male, Ospetek non vuole sorprendere, Ospetek fa un film per le persone che lo conoscono, cioè se te vai a vedere Ospetek sicuramente qualcosa di lui hai visto, mentre se non hai visto niente di Ospetek magari ti viene la voglia di recuperare il suo cinema del passato, ma dopo averlo visto e conoscendo il suo stile, conoscendo la sua poetica, sai già che Ospetek vuole fare sempre un tipo di cinema perché per lui più che sorprendere è importante emozionare, è importante raccontare delle storie che insomma abbiano determinati stilemi, che abbiano determinati ingredienti che sono importanti e fondamentali in ogni film, cioè capite cosa voglio dire? Non è tanto importante sapere che fine farà Anna Maria, si salverà, non si salverà una malattia grave, non ha una malattia grave, conta come viene messa in scena la cosa, conta come viene metabolizzato il dolore, conta come l'amore possa andare a rifocillarsi e sono queste le cose importanti, quindi questo mi piace specificarlo, però allo stesso tempo se Ospetek prima o poi mi facesse qualcosa di totalmente diverso, io sarei molto curioso di vederlo scimentarsi in cose nuove, come del resto anche Muccino, e Muccino già con la ricerca della felicità e con sette anime provò a, diciamo, sì, parlare sempre di storie emozionanti, ma a far qualcosa di diverso dal solito, mi piacerebbe anche che Ospetek, dopo Napoli velata, mi piacerebbe che Ospetek provasse a fare un horror, ma come sarebbe strana questa cosa, un horror di Ospetek, o perlomeno un film thriller, un film secondo me potrebbe veramente venire fuori un filmone. Detto questo ragazzi io posso passare anche alla parte spoiler, questo film è stato girato tra Roma e la Sicilia, in particolar modo a Bagheria, e niente, mi è piaciuto, è un film che sta riempiendo le sale, fortunatamente al box office in quest'ultimo periodo i film stanno andando molto bene, Star Wars, seppur non mi sia piaciuto, sta andando molto bene, Pinocchio di Garrona è già quasi a 3 milioni, felicissimo, la Dea Fortuna ha superato il milione, felicissimo, insomma, la gente sta andando al cinema, questo veramente mi fa tanto piacere, e anche ieri quando sono andato al cinema a vedere con mio babbo questo film, la sala era piena, eravamo in prima fila, quindi pensate un po' voi, a testa alta e col mal di collo, ma almeno ci siamo goduti un film molto bello, e abbiamo visto che la sala era molto contenta e che stava apprezzando quel che lo schermo mostrava, quindi allo stesso tempo viva il cinema che anche sotto le feste sta riscuotendo tanto successo e meno male, perché ne ha proprio bisogno, io spero che dopo le feste continui a riempire le sale, continui a riempire le sale, non so parlare, continui a riempire le sale non solo il mio cinema, ma tutti i cinema d'Italia. Ragazzi mi raccomando non proseguite con la visione del video se non avete visto il film, recuperatelo e poi tornate a farmi sapere la vostra. Va bene ragazzi, vi saluto, ciao ciao ciao, io ora passo alla parte spoiler. Dunque ragazzi, io devo rimarcare nuovamente quanto siano stati bravi a Corsi nel ruolo di Arturo e Edoardo Leo nel ruolo di Alessandro. Cioè davvero questi due attori non interpretano due omosessuali, sono omosessuali, cioè cercate di capire cosa vi sto dicendo, sono talmente bravi che te non pensi mai che stiano recitando la macchietta di un omosessuale, loro sono proprio entrati nel personaggio, sono proprio bravissimi, cioè curano la recitazione al dettaglio, c'è un grande lavoro sulla femminilità nel maschio, hanno veramente dei corpi anche robusti proprio da maschiaci ma allo stesso tempo hanno una sensibilità, una emotività e una femminilità che li rende veramente brillanti, speciali, insomma c'è un lavoro sul personaggio meraviglioso e quindi grandissimo lavoro sull'attore da parte del regista che li dirige benissimo senza mai farli insomma sfociare nell'overacting ma allo stesso tempo c'è anche un lavoro enorme d'egregio proprio sull'attore da parte dell'attore, si vede che i due attori lavorano su loro stessi e lo fanno nel migliore di modi. Edoardo Leo che per la prima volta lavora con Ospetek è forse il personaggio che ci fa anche ridere e riesce a farci ridere senza mai esagerare. I dialoghi sono meravigliosi fra i due, ormai questa coppia non brilla più d'amore, di sesso, infatti hanno insomma continue relazioni extraconiugali, non storie sembrerebbe fino ad un certo punto, solo scopatine no? Però anche l'inizio che inizia con una sorta di falso documentario di Mokumentari, a questa festa di due novelli sposi c'è Stefano Accorsi, Arturo che sta riprendendo insomma con il cellulare quindi una sorta di Mokumentari e poi pum il filmato di Mokumentari si interrompe quando entra il nostro Alessandro che con la scusa di aver fatto vedere una parte della villa, non ricordo, della casa a quest'altro ragazzo si capisce che ci ha fatto sesso. E quindi capiamo che lì c'è un rapporto un po' distaccato ormai fra i due sposi e diciamo che grazie poi all'arrivo di Anna Maria, miglior amica di Alessandro, e con l'aiuto dei figli, cioè della piccola Martina e del piccolo Alessandro, forse le cose poi andranno a cambiare. Noi spettatori ci chiediamo per tutto il film e forse ci aspettiamo che i figli potessero magari essere o figli di Arturo o figli di Alessandro, anche perché Jasmine Trinca, bravissima come sempre Anna Maria, dice che è stata proprio lei a far conoscere Alessandra d'Arturo, quindi chissà, magari te spettatore pensi, forse uno dei due stava con lei, poi ha conosciuto il ragazzo, si sono innamorati, insomma da eterosessuali sono diventati omosessuali, insomma chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Allo stesso tempo poi con il resto del film che scorre scopriamo che in realtà proprio Alessandro stesse con Anna Maria, però in realtà i figli non sono né di Arturo né di Alessandro, sono di uomini diversi che non li hanno accettati, che hanno deciso di non crescerli e quindi Anna Maria se li ha tirati su da sé, anche per insomma allontanarsi da una madre veramente perfida, da una madre e Elena, non ricordo interpretata da chi, ma lo voglio assolutamente dire perché quell'attrice lì mi è piaciuta da morire, mi è piaciuta da morire, quindi voglio trovare assolutamente il nome dell'attrice. La madre di, la madre di, la madre di Jasmine Trinka, la madre di Anna Maria è veramente perfida, è quasi, si torna quasi nell'horror quando si va in Sicilia, quando si va insomma nel villone della madre, perché ovviamente i due protagonisti hanno tenuto i figli, figli che si sono ormai affezionati, ma ovviamente visto che si deve operare Anna Maria, visto che, vediamo se trovo Elena, è interpretata da Barbara Alberti, mamma mia la bravura di Barbara Alberti, visto che Anna Maria scopriremo che si deve operare, non è un tumore ma non si riesce a capire cosa possa essere, insomma è un qualcosa di pericoloso, è un qualcosa da tenere sotto controllo e visto che c'è quest'operazione, i nostri due protagonisti decidono di portare i figli dalla nonna, decidono di portare i figli di Anna Maria dalla nonna, la figlia glielo sconsiglia, però ovviamente lui decidono di portarglieli, anche perché poi scopriremo, scopriremo quel che è accaduto in passato, scopriremo che la madre era veramente una donna severa, una donna cattiva, una donna che viveva in questo villone, in questo villone macabro, tenebroso e già quando la figlia Anna Maria col fratello viveva lì, la madre li aveva rinchiusi nell'armadio, aveva trovato la morte il fratello di Anna Maria e la madre non l'aveva nemmeno cercato di salvare perché li aveva rinchiusi nell'armadio per imporgli ai propri figli delle regole, delle regole proprio feroci, delle regole proprio di educazione molto serrate, insomma era una donna di altri tempi, una donna cattiva, una donna burbera, una donna che fa tanto la snob e che non accetta la realtà dei fatti, che si limita solamente a guardare le persone dall'alto verso il basso e a criticarle, quando in quella scena bellissima i nostri protagonisti decidono di non lasciare più i piccoli dalla nonna, quando purtroppo la nostra Anna Maria verrà a mancare perché morirà e i nostri due protagonisti torneranno in Sicilia e se li vanno a prendere, inizialmente la nonna non glieli voleva dare, allora loro a un certo punto dicono abbiamo fatto tanti guai, mettiamoci ancora di più nei guai, entrano in casa e in quella scena che è allo stesso tempo quasi divertente perché cazzo ridi, perché dici ora cosa combinano, ma allo stesso tempo è anche triste, è molto drammatica, hai rotto il cazzo! Vediamo i due protagonisti che trovano i due bambini, la bambina e il bambino nuovamente nell'armadio con la bambina con dei segni di violenza sul braccio, con dei lividi, insomma solitamente il film ci vuol far capire che forse la storia si sarebbe potuta ripetere. E l'ultima parte anche con questa fotografia cupa in questo ambiente proprio tenebroso, spettrale, è veramente molto 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 bella e c'è il confronto finalmente tra questa donna, tra Elena e tra i due protagonisti, questa donna comincia a offenderli, capiamo che aveva fatto spiare la figlia da un sacco di tempo perché seppur la figlia non volesse più saperne della madre lei aveva qualcuno a Roma che spiava la vita della figlia e che riferiva tutto proprio ad Elena e quindi lei sapeva i personaggi che lei frequentava, lei sapeva insomma di tutti e non ci mette niente a dire ma chi, chi sono i vostri amici? Volete crescere voi bambini e chi sono i vostri amici? La negra? Quell'altra col figlio di plastica? Insomma comincia a offendere quella che vende i cessi? O voi due, due froci? Insomma comincia a offendere e lì vediamo proprio la cattiveria di questa persona fascista, di questa persona veramente cattiva dentro, cattiva d'animo, che se ne sbatte le scatole della figlia e che nonostante i litigi che potessero esserci stati nemmeno va a trovarla, cioè è assurdo ed è bellissimo vedere come questi due bambini riescono a far ritrovare insomma un amore, una scintilla nell'animo dei due protagonisti che li tireranno su ed è bellissimo il finale di questo film in cui i due protagonisti insieme ai bambini hanno perso il traghetto ma si ritroveranno, si ritroveranno perché faranno questo bagno insieme e ricordandosi le parole della Dea Fortuna cominciano a guardarsi negli occhi, a chiudere gli occhi e a stampare nel loro cuore l'immagine di ognuno e questa è una cosa bellissima con l'ultimo sguardo fra Arturo e Alessandro che sancisce proprio il loro riconciliamento la loro riconciliazione e quindi si capisce che ormai grazie anche a quei bambini i problemi di coppia sono finiti, che sono pronti ad affrontarli insieme, forse però nella vita arriveranno altri problemi perché Elena sicuramente li denuncerà come ha promesso, chissà i guai giudiziari che dovranno passare ma allo stesso tempo l'amore vince su tutto, mi è piaciuto molto questo aspetto, mi è piaciuta questa cosa e mi è piaciuto davvero anche i modi in cui le racconta queste cose Ospetek, pensiamo anche alla morte di Jasmine Trinca improvvisa, ripeto mi ha ricordato Saturno Contro, vi ricordate al tavolo Luca Giorgio Intero, pum, cade, insomma, qui uguale, tutto succede, non deve essere un qualcosa di esasperato, sto per morire, no, pum, lei ad un certo punto crolla e quella scena lì a lei a bocca aperta è veramente tosta, cioè è veramente una scena che fa venire i brividi, è una scena veramente tosta e Ferzan Ospetek è bravo nel raccontare queste cose drammatiche, cioè è bravo, per questo dico che vorrei vederlo anche sotto altri aspetti e in altri territori perché qua ha già fatto capire più volte che è bravo, non sto dicendo che debba smettere di fare questi film, che ne faccia altri mille, ma mi piacerebbe vederlo anche in altri tipi di film, detto questo mi è piaciuto tantissimo anche il rapporto complicato tra Arturo ed Alessandro, quando ovviamente anche Alessandro scopre che Arturo aveva una relazione da due anni con questo, quando i due discutono in casa, quante volte si promettono dei cazzotti che poi non si danno mai, al massimo si prende il ketchup, cioè lì si unisce il dramma alla commedia, cioè veramente mi è piaciuta tantissimo anche la scena in traghetto in cui i due ovviamente ormai arrivando proprio a litigare ormai in continuazione a non parlarsi più si buttano addosso tutta la cattiveria ed è ovvio che questa cosa può essere una può essere ovviamente fatta propria dagli spettatori perché a tutti è successa una cosa del genere, quando magari siamo proprio al limite e si litiga con una delle persone più importanti della propria vita e poi magari dopo ci si pente e quindi cominciano a farsi sentire in colpi, Alessandro dice dai la colpa a me, dai la colpa a me, non è che è colpa mia se non sei diventato uno scrittore, perché quando l'editore ti rimandava indietro tutti i racconti non è mica colpa mia, non è colpa mia se non sei diventato un professore, perché per avere la cattedra c'è da fare l'esame, fare il concorso e così via, te non l'hai nemmeno fatto, quindi non è colpa mia se ti sei limitato a fare un lavoro di merda al traduttore e a non guadagnare niente, lì si vede a corsi proprio che poi si trattiene e poi torna, prende il cash, insomma mi piace molto, mi piace molto come Ospitec racconta queste cose, ma l'ha sempre fatto, l'ha sempre fatto bene e continuerà a farlo, spero che possa lavorare ancora con Ospitec, eh sì, spero che possa lavorare ancora con Accorsi e con Leo, Accorsi ovviamente l'avevamo visto tra l'altro anche in Saturno Contro e ricorderete che in Saturno Contro era un personaggio che tradiva la moglie, anche qua tradisce non la moglie ma il proprio marito. Detto questo, che dire, questo è La Dea Fortuna, questo è per me un grande bel film di Ferzan Ospitec ed è un film che vi invito ovviamente a vedere e rivedere, è un film che ovviamente spero vi sia piaciuto, fatemi sapere la vostra, si apprezza di più Ospitec se si conosce la sua filmografia, conoscendo la sua filmografia si capisce meglio la sua poetica come del resto per qualsiasi regista, si capisce meglio la poetica e si capisce meglio il suo modo di raccontare cinema. Quindi che dire, i miei più sentiti complimenti e niente ragazzi, questo era il mio parere sulla Dea Fortuna, grandi musiche, grande messa in scena, tornano gli ingredienti soliti ma sempre apprezzabili di Ferzan Ospitec e torna un altro bel film di Ferzan Ospitec. Ciao ragazzi!